Si è chiuso il primo weekend di regate della Prada Cup. Ovviamente sono stati tre giorni impegnativi, interessanti. Abbiamo imparato tanto, abbiamo fatto tanti errori. La cosa positiva è che la barca va molto bene, sia in condizioni di vento leggero e vento forte. Abbiamo avuto un po' di problemi oggi nella prima regata, che poi è stata annullata, ovviamente abbiamo fatto tutto bene, siamo partiti bene, volevamo la destra, l'abbiamo tenuta, poi purtroppo c'è stato un salto di 20-30 gradi ed è stata annullata. La seconda regata siamo partiti comunque bene, abbiamo controllato bene, purtroppo forse dopo abbiamo fatto un po' di errori. Purtroppo quando vai a 35-9 di bolina a volte hai paura di coprire, probabilmente avremmo dovuto marcare e applicare la regola base del match race, quindi accettare di perdere, però metterci tra noi alla boa, come si fa in un match race. Abbiamo imparato la lezione. La seconda regata con American Magic è stata un po' un ternalotto, perché siamo partiti senza strumenti di bordo, non avevamo informazioni del campo di regata, dove erano le boi, i boundary. Adesso stiamo indagando se è un problema nostro, un problema derivato dal comitato, faremo una serie di riunioni. In più abbiamo avuto un paio di rotture a bordo, tant'è che Pietro ha dovuto finire a fare tutta, praticamente gran parte della regata da un lato solo, perché una delle console per regolare la randa non funzionava. Purtroppo American Magic, ovviamente siamo contenti perché abbiamo fatto il punto, ma ci dispiace per quello che è successo a American Magic, questa è la Coppa America, volevamo lo spettacolo, credo che oggi di spettacolo ne abbiamo dato. Abbiamo cinque giorni per fare tutta una serie di brief, vedere cosa abbiamo sbagliato, dove dobbiamo migliorare. La cosa positiva è che usciamo da questa regata con la consapevolezza che la barca va bene, è veloce, i velisti sono bravi, dobbiamo fare un errore meno degli altri.